Sono azioni che nel mondo di Abiyah ci elevano ad Atsilut per mezzo delle azioni? No nel mondo di Abiyah, nel mondo di Biyah si elevano ad Atsilut e in Atsilut abbiamo la luce di Nefesheruach. Quando il mondo di Abiyah ascende ad Atsilut, e allora nel mondo di Atsilut la luce di Hayah arriva e quando la luce di Asiyah ascende ad Atsilut, allora il mondo di Atsilut e la luce di Yekidah aggiungono. E allora? A partire da questo A'Hap che si è elevato, che è asceso a Atsilut, se l'azione succede in tutto il vaso, allora c'è un'azione che si chiama una discesa dove la A'Hap discende al suo stato e con loro tutta questa aria è scientificata sotto il Parsà. E la luce superiore anche possono passare sotto la Parsà e il Marticum si porta a termine e lì dove la luce brilla.